Grazie soprattutto alla Presidente Franco Iachini, Presidente del Teramo, ospiti della sua azienda, la Infosat. La vedo in grande forma. Grazie. In grandissima forma, le cose vanno bene, due vittorie consecutive per aprire nel migliore dei modi il 2020. Sì, infatti io l'ho detto anche ai ragazzi, il 2020 è un anno speciale, magico nel numero, speriamo anche nei risultati. Gli inizi sono giusti, poi vabbè, non ci vogliamo far portare dai detti non c'è due senza tre, è il quarto in da sé, quindi vediamo come va questa settimana. Tra l'altro, caro Paolo, il Presidente ci dirà nel corso della trasmissione quale sarà il nuovo attaccante del Teramo, lo proviamo subito, no? Sarebbe un illecito vantaggio per i vostri concorrenti giornalisti che ricordiamo che c'è Silenzo Stampa, Silenzo Stampa che sicuramente è riservato prevalentemente allo staff e ai calciatori, quindi il Presidente ogni tanto si prende qualche licenza perché è giusto che sia così, che non si può tenere all'oscuro di tutti. Credo che non finirà domani, sicuramente, aspettiamo almeno la fine del mercato e poi vediamo, qualche vostro simpatico collega ha detto, beh però se Silenzo Stampa ci fa vincere, che sia Silenzo Stampa per tutta la vita, quindi io queste parole le terrò a mente, quindi speriamo di andare avanti, al limite parlerà solo il Presidente, quindi poi vediamo. Che va bene lo stesso, Andrea Iaconi parla poco in realtà, di solito. Andrea poi se può evitare la stampa, gli fa solo piacere. E lo conosciamo molto bene, a proposito il rapporto con Iaconi? È fantastico. Strepitoso, no? Sì, è una bravissima persona, una grandissima persona, a parte di grandissime qualità e capacità nel suo settore. Per me è una guida spirituale, quindi insomma mi sto facendo portare in mano da lui, poi io confido nelle sue capacità, perché soprattutto, l'abbiamo ricordato prima, io sono entrato in questo settore non avendo, sto cercando di imparare, spero di farlo il più velocemente possibile, però è normale che bisogna avere qualche mentore che ci dà una prima infandina. Anche perché Andrea Iaconi è esperto in missioni impossibili, quando bisogna risanare una società è infallibile, l'ha fatto a Pescara, l'ha fatto a Brescia, a Grosseto, ad Arezzo, insomma, quindi... Sì, 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 questo lo so, solo la sua storia. Qui non c'è bisogno di risanare, però, voglio dire... No, 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 questo non lo vorrei dire, però c'è bisogno di far sicuramente far valorizzare al massimo la società, ma, dopo tutto, abbiamo degli ottimi elementi che già da quest'anno abbiamo individuato, sono stati individuati, valgono, e quindi speriamo di poterli valorizzare al meglio, anche con le capacità di Andrea, naturalmente, e di Sandro Federico, che è un'ottima spalla. Ma ha un difetto Andrea Iaconi? Ma, guarda, no, sinceramente, molti tifosi diranno, vorrebbero dire subito quello di essere giuliese, ma per me non è un difetto, anzi, no, io ci ho anche comprato casa, quindi a me piace molto Giuliano, poi la bacca, quindi mi ci trovo molto bene. No, difetti no, per adesso di Andrea non li trovo, perché è una persona sempre disponibile, quindi non li trovo. Poi, no, speriamo che il difetto più brutto sia quello di non mantenere le parole. No, no, assolutamente, sotto questo profilo possiamo garantire, lei si è presentato a Teramo, il 18 giugno mi pare, ha fatto tutto, 13 giugno, quindi diciamo che un anno fa non ci pensavo neanche lontanamente di entrare nel calcio, quindi ecco, per dire, lei è proprio un neofita, investimenti ingenti. Sì, beh, diciamo che io fino all'11 maggio stavo assolutamente su tutti altri scenari, altre idee, altre cose, poi dopo il 12 maggio è iniziata un po' questa full immersion, all'inizio un po' per scherzo, poi è diventata, diciamo, una cosa che è stata un po' più turbine, su cui mi ci sono ritrovato, ecco, un vortice su cui non sono riuscito a dire, e dopo di che siamo partiti con questa iniziativa, è stata una bella impresa, prima la squadra, la riorganizzazione della società, prendere in mano lo stadio, bellissima operazione, questa mi ha appassionato molto, perché insomma, dopo tutto anche l'aspetto pratico, il mio lato ingegneristico mi ha sempre un po' condotto, quindi abbiamo fatto tantissime cose, si è creato un bel team, ad oggi devo dire che anzi abbiamo chiuso l'anno veramente guardandoci un po' indietro, anche con tutto lo staff, con tutti i ragazzi che hanno partecipato, sia per quanto riguarda la squadra, quelli che gestiscono lo stadio, devo dire che siamo rimasti tutti ben soddisfatti dell'operazione che abbiamo portato avanti. Adesso poi l'anno, come dicevamo, è partito veramente bene, perché ci credevamo, ci crediamo, tutta la squadra è convinta che adesso si può fare tanto, è stata una prima parte di campionato difficile, sotto tanti aspetti, molti calciatori nuovi. Anche perché è una squadra completamente rinnovata. Assolutamente, squadra rinnovata, mister nuovo, quindi ambiente completamente nuovo, però devo dire che oggi mi dicono che quando c'è qualcuno che dovrebbe andar via, nessuno vuole andar via, quindi vogliono rimanere tutti a terra, ma è questo che mi fa piacere. Questa è la massima gratificazione. Assolutamente. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, lei ha rifondato il settore giovanile, insomma crede tantissimo nella linea verde che credo che sia poi la linfa per le società di calcio. Assolutamente, sì, questa è stata una cosa su cui il mio direttore generale, Andrea Iaconi, mi ha veramente spinto a fare importanti investimenti rispetto a quello che era sicuramente nel passato della storia del Teramo. Su quello mi ha detto veramente qui puntaci, investici, perché questo da qui possono venire le soddisfazioni, le plusvalenze, quello che può far crescere e continuare una squadra a essere sempre in forma per sostenersi e andare avanti. Su questo c'è Teo Rimascio, è veramente un esperto, una persona che fin dall'inizio si vede che è una persona diversa dal classico ambiente del calcio, è un uomo di numeri, un uomo di programmazione e devo dire che giorno per giorno sto vedendo veramente delle cose interessanti. oggi abbiamo almeno 10 elementi, dai 14 anni alla Beretti, forte attenzione da parte di squadre di Serie A. Ci sono progetti ambiziosi, lei ha preso anche la gestione dello stadio per 17 anni, ma mi risulta che voglia allungare, prolungare… Diciamo che noi adesso presenteremo al… sì, 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 certo, abbiamo rilevato l'attuale concessione, naturalmente puntiamo adesso a fare nuovi investimenti sullo stadio, a fronte dei quali chiederemo un allungamento della concessione, investimenti che dovranno portare sullo stadio nuove attività, perché comunque un gioiello della città è rimasto… c'è una grossa parte del centro commerciale inutilizzata, quindi è uno scheletro che non serve, vogliamo creare posti di lavoro perché riteniamo che quella sia una zona molto attrattiva anche per quanto riguarda la città, la comunità, quindi… Creare economia? Assolutamente sì, economia perché il calcio è comunque un fattore molto importante, trainante dell'economia di un'intera provincia, questa cosa è una delle cose che io vado ripetendo fin dall'inizio di questa avventura, quindi dobbiamo assolutamente credere al calcio non solo per il divertimento della domenica, ma per tutto quello che riesce a muovere, a sviluppare come indotto nell'economia di una città. Quindi obiettivo copertura dello stadio Bonolis? Ma prima della copertura pensiamo di riempire e creare… perché la copertura è un qualcosa che può far stare ancora meglio lo spettatore… Per renderlo ancora più fruibile… Per renderlo più fruibile, però noi pensiamo a creare innanzitutto per dire una copertura del manteposo su cui abbiamo investito quasi mezzo milione di euro e più creare nel centro commerciale diverse attività che vanno da centri di poliambulatorio, ristoranti, attività di co-working, insomma attività che possono comunque dare lavoro e portare economia al territorio, quindi questa è una cosa importante, quindi comunque valorizzare una struttura che il comune è un bene del comune e che da qui, quando poi dopo lascerò la cosa, potrà comunque rimanere al territorio, quindi è un punto di riferimento, deve diventare un punto di riferimento quello stadio. Un punto di ritardo dal Catanzaro, scontro diretto, settimo posto per il Teramo, la quinta e la quarta sono a nove punti, ovvero potenza e monopoli. Un po' distanti, eh? Un po' distanti, noi abbiamo avuto un girone di andata con anche tante defiance, speriamo che toccano gli altri, la ruota gira, deve girare per tutti, noi confidiamo in questo, noi adesso siamo coscienti delle nostre capacità e l'obiettivo che ci siamo dati è quello di fare un buon piazzamento per i play-off, quindi un buon piazzamento può essere dal quarto, quinto, sesto posto, perché ci permette di giocare le prime partite in casa, che sono quelle un po' di scossa, di questo vero campionato, perché adesso questo è il campionato a cui dobbiamo ambire, perché è normale che la regina è troppo, è distante anni luce da noi, quindi non è più a portata di mano, ambibile quel posto, e quindi noi puntiamo adesso a fare un campionato di play-off, anche perché il Limo ci vuole, è una livella, si riparti tutti nello stesso punto, quindi è normale che se riusciamo a prendere un quarto e quinto posto, diciamo che il quinto posto sarebbe l'ideale, il quinto posto sarebbe l'ideale, dopo tutto il Cosenza ci è andato a inserire lì, nel 2018, partendo da quella posizione. Ma il presidente Iachini, che è un neofita del calcio, ogni tanto insomma gli piace fare anche un po' l'allenatore o no? Perché succede, il presidente, cioè magari qualche rilievo all'orecchio di Tedino, no, rilievo no, consiglio, diciamo consiglio. No, più che altro provo a chiedere, dico ma a me piacerebbe questo fare così, poi dopo il mister mi spiega che secondo lui, e giustamente mi fa rilevare quelle che sono cose che io non riesco a notare, e dice ma però questa adesso fa così così, mentre quest'altro ha queste caratteristiche, giustamente Ubi Maior, Minor Cessat, in campo è lui, poi a fine campionato faremo, diremo, diremo la riga. Bruno Tedino in questa seconda fase di campionato ci dovrà dare molte sorprese, gli abbiamo chiesto di valorizzare i giovani, non solo per un discorso aziendalistico ma anche perché comunque valorizzare un giovane oggi secondo me per un allenatore è molto importante perché guadagnare un posto in più in classifica rispetto alla valorizzazione di un giovane che potrebbe ambire a una Serie A, secondo me credo che quello sia il risultato ancora più interessante per un allenatore, perché a me che arrivi settimo piuttosto che ottavo, piuttosto che sesto, però mi fa vendere un giocatore in Serie A, io sono contento anche se arriviamo noni ai playoff, poi dopo ce la giochiamo, perché quello è il vero valore aggiunto di un allenatore secondo me, è quello di dimostrare di aver trovato degli ottimi giovani e di farli valorizzare, naturalmente facendo dei sacrifici con i più anziani, con come si dice, come si chiamano, perché questo l'ho scoperto, i senatori. I senatori, sì. Non lo sapevo io, i senatori, però siccome i senatori con noi hanno degli ottimi, noi ci crediamo, hanno dei contratti ancora importanti con la società, quindi devono essere anche loro stessi a fare spazio ai giovani, perché tanto loro saranno le nostre punte, i nostri capisaldi, i nostri pilastri per l'anno successivo, quindi se abbiamo degli ottimi giovani io credo che Bruno Tedino li riuscirà a valorizzare al massimo. Quindi sempre più convinto che Tedino è stata la scelta giusta, mi pare. Assolutamente sì. Non l'ha mai rischiato, insomma, no? Qui rischiamo tutti, rischiamo ogni giorno, le nostre posizioni si possono, quindi ognuno può, però è normale che tutti debbano avere le possibilità di poter dimostrare, e io mi sono reso conto, per quel poco che ne posso capire, che comunque il calcio non è fatto di uno, due, tre risultati, e quindi bisogna dare. Bruno Tedino mi ha sempre detto che bisognava far crescere, come dire, l'amalgama tra i ragazzi, il gruppo tra i ragazzi. Per esempio stamattina che sono stato a trovarli per il saluto per la partita di domani, lui, ci siamo intrattenuti qualche minuto insieme io e lui, lui mi ha detto che oggi i ragazzi lavorano veramente con entusiasmo e col sorriso, quindi ha iniziato a trasferire, a creare questo ambiente assolutamente importante e favorevole per la squadra. Sicuramente c'è più consapevolezza, al di là del fatto che sia arrivata la vittoria all'ultimo respiro, è stata probabilmente la prova più convincente dall'inizio della stagione offerta dai biancorossi. Assolutamente, credo che anche gli stessi tifosi che hanno assistito alla partita dagli spalti, se fosse rimasto il pareggio non sarebbero tornati a casa amareggiati, ma contenti di aver visto una buona squadra, delusi per il risultato, è stata ciliegina sulla torta, brava bombaggi su questo, certo ce la doveva dare dopo il rigore sbagliato, quindi se la doveva proprio era il minimo. Presidente, tra l'altro il Catanzaro è un tabù da sfatare, non so se hai letto i precedenti, nove sfide, zero vittoria del Teramo con cinque sconfitte e quattro pareggi, tutti ottenuti però in Abruzzo. L'ultimo precedente nel 2003, dicembre 2003, il Catanzaro di Braglia che poi vinse il campionato DC pareggiò al vecchio comunale 2 a 2. Io questi dati non li conoscevo, ne prendo atto ma oggi ho dato alcuni messaggi molto importanti ai ragazzi che devono vincere la partita per una serie, è proprio un obiettivo militare quello che gli è dato. Addirittura militare. Assolutamente sì, questa è una partita da vincere. Eh sì, perché può essere uno snodo veramente importante nel proseguo della stagione per il Teramo. Sì, perché noi dobbiamo dimostrare di non avere paura di nessuno, perché noi abbiamo preso atto delle nostre capacità, della nostra forza, i ragazzi sono assolutamente convinti di questo e domani lo dimostreremo in campo con questa vittoria, io sono convinto che arriva la vittoria, spero di non smentirmi. Speriamo di no, perché se no non possiamo tornare il giorno prima di una partita, se dovesse accadere qualcosa di diverso. No, io mi ci voglio, io spero di vedervi qui certo. Ecco esatto, così magari ripeteremo l'esperimento. Piacentini riprenderà il suo posto da titolare nel cuore del reparto arretrato, naturalmente non ho chiesto nulla al presidente Franco Iacchini sulla probabile formazione che sarà scherata dal tecnico Bruno Tedino, però secondo me potrebbe esserci anche una possibilità per Birligia, questo attaccante di cui si parla bene, rumeno classe 2000, che è arrivato dal Palermo e che Tedino conosceva bene. Tra l'altro avete preso il terzio sinistro, Fiore, un Italo belga che ha giocato e stato alle dipendenze di Tedino due anni fa nel Palermo. Sì, sulla formazione non posso dire niente perché la formazione la fa il mister, quindi non lo so, sicuramente il mister ha un mandato, quello di valorizzare i giovani, però è normale che dopo starà lui a decidere la tattica in base a quello che la partita dimostra. la palla sta a lui, i rischi, i oneri e i onori stanno a lui, quindi è lui che fa la formazione, io ho sempre detto che su questo non interverrò mai. Posso sperare qualcosa, però farò il tifoso, il tifoso per qualche giocatore, però alla fine è lui che decide. Col Pescara allaccerete qualche rapporto? Col Pescara ancora non conosco il presidente Sebastiani, ci siamo riprovessi tramite Andrea di fare una cena insieme nel più breve tempo possibile perché è normale, adesso gli impegni sono stati tanti, non ve lo nascondo ma il mio tempo è al 90% quello assorbito al termocalcio quindi immagino poi che trovare anche degli spazi per vedersi è anche difficile perché sono anche tante altre cose da fare, no volentieri perché comunque i rapporti di buon vicinato poi tra le uniche squadre professioniste abruzzesi devono assolutamente essere buone e cordiali ma io credo che siano così e spero che sono stati con il presidente Campitelli quindi non vedo perché non debbano essere lì anche con me, spero che ci incontreremo presto e troveremo dei punti d'intesa quindi se ci dà una mano loro sono più ricchi di noi quindi... Che possa essere magari una collaborazione virtuosa, l'attaccante non ce lo vuole dire il presidente ormai neanche sotto tortura però sappiamo, sappiamo presidente che siete su due giocatori dell'Agnonese, Diachite terzino destro classe 2000 e Diarrà che è un classe credo 99, un centrocampista sempre dell'Agnonese, ci può dare qualche informazione in merito, ci siete su questi due giocatori? Ma io ho sentito parlare di questo nome agnonese, voi dagli altri non me li ricordo non se ne ricordo, vabbè, è l'uso anche in questo caso la domanda però sappiamo che il Teramo è fortissimo su questi due prospetti molto interessanti del campionato di Serie D, sono protagonisti nell'Olimpia agnonese, Diachite terzino destro classe 2000 che ho visto più volte all'Opera e Diarrà, Diarrà che dir si voglia che è un mediano centrocampista classe 1999, possiamo chiudere qui la finestra con la Infosat che è la sede dell'azienda del Presidente del Teramo Franco Iachini che io ringrazio, ringrazio e saluto, è stato davvero un grande piacere, è stato un piacere mio, molto gentili, speriamo che portiate fortuna per domani, assolutamente, in bocca al lupo per tutto Presidente